Buonasera a tutti, sono Luigi on Araco, se preferite bentornati su Dramo Zero Come Battle version Edge Up con l'ultimo video della settimana riguardante l'idea dell'istruzione sono quattro video a settimana quindi sono tantini oggi affrontiamo questo dio dell'istruzione di cui non ricordo il nome ma lo vedrete nel titolo e tutto torniamo a un team molto classico, torniamo a un team molto classico rispetto ai precedenti che avete visto che erano abbastanza più originali o quantomeno diversi lui ragazzi lo affrontiamo con un classicissimo doppio Veget che qua vedete in tutta la sua ability 1 grazie alla bacce di Vegeta che funziona al meglio questo sinceramente non è nulla di particolare è il più scarso forse dei quattro novi video della distruzione in quanto non ha particolarità ok anche Ciampa non ha particolarità ma Ciampa era GL costringendoti quindi a un certo team building questo è Intel che vi porta a poter fare determinati giochi come potete notare Veget Blue ma anche Veget Super Saiyan la fanno da padroni con un ottimo dosaggio sia dei counter che del tanking davvero più che positivo più che positivo allora di cosa possiamo parlare nel mentre vedete questo questa nana abbastanza semplice è un first try tra l'altro in realtà abbiamo finito un pochino tutti gli argomenti possiamo parlare di come Mutant Free to Play diventerà tipo Dio Dio sceso in terra con il PG un terrore assoluto oppure in generale potrei decantarvi ancora di Gokusa ma penso che non serva adesso hanno confermato tramite tramite V-Jump che probabilmente sarà una Z-Aria normale che mi dispiace cioè per quanto so che da una parte di voi preferiscono che sia una Z-Aria facile io non sono d'accordo secondo me doveva essere una Z-Aria di quelle stronze ma tanto molti c'è da fare che solo pochi potevano finire adesso e questo avrebbe garantito il fatto che Gokusa potesse davvero essere una unit molto molto forte il fatto che non sia così potrebbe renderla un pochino più sottotono rispetto alle nostre aspettative perché ragazzi stiamo avendo tutte le aspettative enormi esagerate probabilmente per Gokusa nella sua batch nella batch del nostro caro amico U17 mi aspetta ancora un po' di pull 5 LR che mi mancano ma la vedremo la vedremo per il resto aspettatevi molto presto una tier list nuova giornata probabilmente fine terza parte inizio di marzo vedrò di organizzarla sarà molto a lavorare perché c'è tanto da dire in una nuova tier list questi eventi mi hanno fatto rivolutare in generale alcuni personaggi decisamente più e' tutta che l'ifla che ora che l'universo vava al saga prende tipo metà dei pg del gioco quasi è davvero tantissima roba cioè ragazzi pensate a un pg che vi evada al 100% di attacchi di metà del gioco poi è naturale non in tutte le situazioni in alcune rimane di nicchia però in altre tantissima roba c'è vero tanta roba mutena anche me lo aspetto enorme non sapete quanta voglia ho di vedere IESA di vedere tutto quello che ci sta per arrivare settimana prossima perché ho voglia di vedere cosa ci aspetta sinceramente ho voglia di vedere davvero cosa ci aspetta a cosa andiamo incontro cosa ci permetterà di ottenere di nuovo questo anniversario che a oggi è il migliore anniversario di sempre hanno regalato molti su molti sui banner poi che vi siano andate bene o male è relativo ragazzi li hanno regalate quindi per cui vedo abbastanza inutile anche lamentarsi una cosa gratis non è una cosa di cui ha molto senso a mio avviso lamentarsi migliore anniversario di sempre il che mi fa avere aspettative enormi sul settimo anniversario e so che è presto per fare il settimo anniversario ma ricordiamoci che sarà il settimo dovrà essere qualcosa di terrificante in senso positivo abbiamo ancora la multi da 66 pg con lr garantita la mia speranza ricade su una copia di gokusa che probabilmente a oggi dopo u17 che però voglio proprio per completismo lr che più avrei bisogno almeno l'abilità una gokusa mi servirebbe non è una cosa che comprerei ho ancora tanti coin proprio tanti u17 se il giorno in cui è uscito io avevo già detto cavolo se non lo pullo lo prendo coi coin la situazione è già cambiata con l'esa di gokusa che non lo rende più così importante come vi ho sperato in questo video rende molto più importante golden 17 il che è fuori di testa come cosa cioè io ho appena pullato golden 17 ragazzi mi sono incazzato con me stesso perché cavolo avevo rose animation 50% golden io lo sapevo che usciva golden ci sono rimasto male ma col senno di poi col senno di poi è stato un bene anche se ripeto bisogna aspettare la gokusa però pensando a gokusa come prima lr pullabile che ottiene l'esa c'ho aspettive alte abbiamo tutti aspettive alte su gokusa inutile prenderci in giro se non sarà un pg davvero enorme rimarremo tutti delusi anche se regalerà stone farà tanta roba io mi aspetto per la terza parte le nuove history le nuove zetarie questo è esa di gokusa che vedremo un po' cos'è tanta altra roba questo sarà un anniversario completo anche perché vi ricordo che mancano ben 16 ticket l'anno scorso mancava un ticket praticamente nella terza parte quindi 16 ticket sono tante cose salvo non facciano una quarta parte perché altrimenti fanno la quarta parte giusto perché sono infami e ci vogliono far aspettare però spero di no poi si chiuderà in tre parti questo anniversario e poi possiamo iniziare a pensare ad aprile iniziare a pensare ad aprile e vedere un pochino come muoverci perché adesso Dokkan avrà il problema di dover far uscire delle cose dopo aver pompato U7 in questa maniera U7 il miglior team del gioco ragazzi full LR praticamente tutte LR buone non c'è un LR che si possa dire faccia cagare e quindi devono caricarci i team io lo sto giocando U7 ragazzi io lo sto giocando U7 ed è una cosa spaventosa e non ce l'ho ancora completo mi manca un PGU7 devo portare a tour no due PGU7 mi mancano no no ho detto mi manca un PGU7 un PGU7 devo portare a tour un altro PGU7 quindi lo proveremo tanto cioè vi farò proprio dei video riguardanti questo team perché mi è tornato a voi di far video riguardanti team questo è il risultato che ho pullato tantissime cose si possono fare tante cose divertenti vedere tanti team simpatici un team della distruzione più angeli anche circa manca un PGU7 per farlo quel team quindi dovrò un attimo inventarmi qualcosina ho trovato i Sail Junior cioè se questo è un pur parlay questo video alla fin fine perché non c'è una strategia cioè sto qua è un cavolo di distruzione identico agli altri che semplicemente ti metti là a far counter cioè questo evento da una parte è una manna dal cielo perché finalmente è un evento che ti fa pensare il team building senza avere limitazioni del cavo dall'altro dopo due volte che lo fai ti passa la voglia a metà delle franze ti passa davvero malamente la voglia perché tanto sempre quella solfa è sempre quella solfa è farò lo showcase dell'account anche voglio farlo dopo che pullo la multi da 66 naturalmente perché magari lo faccio proprio come inizio di quel video e per quanto durerà tantissimo perché parlerò più o meno di tutto l'account dei pg anche gli errori che ho fatto all'inizio tipo un pg che non avrò mai più che ho dato in sa all'epoca in cui i cagli erano merce rara non roba in cui ma avendo quasi tutte le errori del gioco viaggio comunque con più di 100 cagli sulle spalle il numero crescente più che il numero calante quindi e parleremo un pochino di quello che mi aspetto in questo settimo anno perché siamo entrati nel settimo anno in realtà siamo entrati nel sesto anno siamo entrati nel sesto anno di gioco i pg che vorrei vedere a esa i pg che vorrei vedere a tour proprio un discorso completo ragazzi ma detto questo direi che ci siano detti abbastanza io vi ringrazio di seguito ci vediamo domani in cui ricomincia una programmazione più lineare con l'analisi di golden e 17 poi sabato potrebbe esserci pausa perché voglio comunque provare a pullare prima di far quella di 17 alla prossima e grazie ancora di avermi seguito con l'anima di Grazie a tutti